Ciao, benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vorrei fare la cerzione di un prodotto che cercavo da tempo, non l'ho voluto comprare nuovo perché costava 180 euro, stamattina l'ho trovato subito a 50 euro, era ancora nuovo e imballato qui a Monza, che è a 5 km dal mio paese, gli ho mandato un'email, mi ha risposto subito, sono corso a prenderlo. È tutta la mattina che lo provo, che ci sto giocando, sto facendo i miei lavoretti e vi devo dire che come tutti gli altri prodotti che ho della Dreaml funziona benissimo. Il prodotto in questione si chiama Dreaml Trio, è un seghetto a spirale, come si dice, è un seghetto per robistica, anche se io lo utilizzerò per fare le frese rotonde nei pannelli delle porte blindate. Niente, è comodissimo, funziona in due posizioni, che è questa, quella classica, quella più comoda, la maniglia in gomma è comodissima, si può prendere con due mani. Ho già provato a fare dei disegni su dei pannelli e usandolo così si segue benissimo, si riescono a seguire benissimo e a fare i buchi, i tagli, i incisioni. È abbastanza potente, funziona con 10.000 giri al minuto e si regolano da qua, si parte con il numero 1 e a 10.000 giri. Va salendo fino al numero 10, che sono 20.000 giri. Come vi dicevo, funziona sia così, ma si può anche alzare, schiacciando questo bottone, vedete? Funziona anche in maniera dritta. Le basi sono due, c'è questa base, che è quella classica, che è anche in gomma, funziona sui supporti, funziona benissimo. Oppure si può mettere questa, che è la classica base della Dreamer, quindi se si alza in piedi a 90 gradi, si può utilizzare per fare i buchi, che sarebbe quello che ho intenzione di usare io. Niente regolabile, come vedete, come tutti i prodotti della Dreamer. Come vi dicevo, funziona a 10.000 giri. All'interno troveremo due frese. Questa è quella per fare le fresature, che dopo testeremo, funziona benissimo, ho fatto delle fresate perfette. O se no, c'è quella per fare i tagli, questa serve per tagliare. In più troviamo anche questo attrezzo, che serve per inserire questi cilindri. Questi cilindri sono fatti di carta vetrata, nella scatola ce ne sono sei, tre per tipo, che servono una grana fine e una grana più grossa. Mettendo l'attrezzo a 90 gradi serve per limare i bordi o altri oggetti. Sul sito c'è scritto che non serve solo per il legno, taglia benissimo anche le piastrelle. Questo sarà da provare. Oggi comunque non lo proveremo, lo proveremo per il legno e se riesco a trovare un pezzo di cartongesso, faremo una prova anche sul cartongesso. Ho visto un video su YouTube che una persona lo usava per fare i buchi del cartongesso per inserire le prese. Per questo funziona benissimo. Come vi dicevo, questa presa è in carburo, è molto dura. Ecco, il unico problema della Drimmel, ve lo dico già da subito, dovete spendere un pochettino se poi volete comprare gli accessori, perché purtroppo la Drimmel fa accessori dedicati. Per esempio, questa fresa, vedete, ha il collo da 4,8. Nessun altro articolo, neanche quelli della Drimmel, funziona con attrezzi da 4,8. Quindi trovare le frese di un'altra marca è difficilissimo, anzi praticamente impossibile. Io ho trovato quelle del classico Drimmel, quelle che sono da 3,2 mi pare, su Aliexpress si riescono a trovare, ma visto che questo è un attrezzo che costa un pochettino, è un po' di nicchia, non ce le hanno in tanti, bisognerà comprare le sue originali. Ho già visto, tre frese costano 45 euro, che sono quelle per arrotondare i bordi o per fare delle incisioni particolari. Poi comprerò anche quella e testeremo anche quelle. Per il momento questo andiamo sul mio banco prova e proveremo a fare una fresatura. Nella sua scatola troveremo anche questa Dima che si può usare in due metodi. Si può usare come Dima normale, vedete, per andare dritto, oppure, come vedete qui c'è un pistoncino che esce, si farà un buco del 4, si aggancia sempre al Drimmel e si userà questo come Dima. Questo serve per fare i buchi rotondi nei pannelli. Dopo la testeremo. Per il momento la usiamo nel modo classico, che è per quello per fare le fresate. Io ho già fatto due incisioni, come vedete sono uscite perfette. Ora ricreeremo queste incisioni. Ne faremo prima una andando col minimo della velocità, con il minimo della velocità, vedete, il legno è troppo duro, non funziona benissimo e mi ha fatto un po' di bava qua. Vedete c'è un po' di bava, qualche legno, un pezzettino di legno si è anche rotto. Invece quando l'ho fatta a velocità massima, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, il taglio, l'incisione è venuta perfetta. Ora lo colleghiamo e proveremo subito a velocità alta. Come vedete l'incisione è venuta perfetta. Ora lo testeremo con l'altra punta, metteremo una punta a taglio e proveremo a fare un'incisione a S. Vi farò vedere come è comodo. come vedete ho cambiato la punta, ho messo la punta da taglio. Ora proveremo a fare un disegno a mano libera. Come vedete sono riuscito a seguire perfettamente il disegno che avevo fatto con la matita. tenendolo con due mani è comodissimo, si riesce a seguire qualsiasi taglio si vuole fare. Questo è un pannello da 5 mm, me l'ha tagliato come il burro, senza sforzare comodamente. Ora cambiamo la base. Ora lo useremo come un drimmel normale e vedremo come si comporta per i lavori che comunque alla fine dovrò fare io. il buco non è precisissimo perchè mi si schiacciava il pannello, comunque viene benissimo, è bello liscio, adesso faremo l'ultimo test perchè voglio provarlo con la dima girata al contrario per effettuare un buco. Ora vediamo. So. So. Allora. So. come vedete ha funzionato benissimo anche per fare un buco in questo pannello questo pannello è un pannello di alluminio poi c'è mdf come vedete mdf poi c'è il polistirolo un altro pezzo di mdf e poi un'altra un'altra lastra da un millimetro in alluminio si è comportato benissimo chiaramente visto che c'era del materiale metallico come l'alluminio ho fatto l'incisione con il massimo della velocità la recensione termina qui sono contentissimo del mio prodotto dream come del resto degli altri due prodotti che ho se siete interessati ai prodotti rimel fatemelo sapere e farò una recensione anche di quelli o quando mi arriveranno le frese per fare per rifilare i bordi per fare i bordi arrotondati o squadrati se siete interessati scrivetemi qui sotto e farò una recensione anche di quella mi raccomando iscrivetevi al mio canale e se volete farmi qualsiasi tipo di domanda scrivetemela qui sotto e sarò lieto di rispondervi buona domenica